tanto è un 60 e mezzo non ancora è aria elicone prendete il filo spinato ci mettiamo in testa in testa vai bentiteggiane a 3 rook no non ce l'ha vabbè va bene servono tanto l'impact ma qua mica tanto vabbè spiemo il muro a quello che sta in mezzo ah si esatto eh ma ci mettevo il mira vabbè da un lato ci metto il mira comunque si si ma il mira mettono nell'altra stanza quella intanto ne ho due ok però uno di set si mette qua si ma uno lo metto qua dove metto il rinforzo scusa quello verso scale verso cucina non lo metti quindi ah no perchè di solito non è così problematico lì è più problematico sua cioè è più buono avere un vantaggio minimo sua se volete ve lo metto dietro al posto che quello la dove ho rinforzato io si facciamo così ma è meglio averlo avanti tutte e due allora come classica maniera non è proprio sp тоже non è rispetto ai sottotolo ti ho buon cchia come luminoso fuori sono entrati dall'altra parte dell'aereo stanno entrando dall'altra parte dell'aereo montagne hanno grazia che due coglioni no perché l'abbiamo fatta fuori quattro di vita no aspetta fatelo avanzare ma si è messo davanti alle kairos mi sto mi sto no ma perchè tanto meno e mi stavano rompendole no no non la fa più ma che c'è qua eccoli merda piastro fuori porca troia no non ci voleva asce sopra e arrivando a cucina si hanno rotto la telecamera no 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 No, mi ha invitovato. Quanti droni vogliono prendere me? Oddio, Grimm. Basta dronare. Bravo. Occhio, c'avete ascia che vi entra. Era già dentro. 15 secondi. 10 secondi. A4 è defusing una bomba. Devi disabili... Dietro il tuo vetro, ho implantato. No. Nooo, minchia, cazzo di drop shot. Dovrebbe giustarlo qua. Dai, pure scarsa come la merda. Si metteranno anche loro? Eh, montagne... dai, prendo blackboard. Venga da davanti. Ma prendo montagna? Si prende, dai. Si prendetelo. Eh, facciamo cosa prendo il bar quasi quasi. Facciamo quello che fanno, forse. Facciamo quello che fanno di solito, anche dai. E' diretto. Andiamo da dietro. Ho fatto. Io ti scannello delle impronte, tu li pushi e ti prendo quando esco dalla parte sbagliata. Si. Ok, sono davanti. Tenete i droni, che servono a un casino. Io non l'ho fatto in tempo anche a facciarmi, che era esploso. C'è il... smoke o mutero, ho visto che li e due mi sembrava smoke. Faccio l'attacco da sopra io Eh sì, sarebbe buono sfondargli la botta Lassopra, arrasciargli dentro dove difendevo io E lo ammazzi in quel modo Allora spavano dall'altro lato Hanno messo i vetri come noi, giusto per sapere Non lo so Perché montagne aggiano la coda? Adesso arriviamo, facciamo l'aereo Eh ma detto in voi Quello come fai di scegliere tutto con Brad, ti ricordi? Eh sì Vai vai puoi entrare comunque nel vero su nessuno Mi ha fatto il drone però C'è palza piano di sopra raga Che d'uomo Nei condotti E la botola è rinforzata Quindi non posso sfondargiela Ah non so se è sopra in voi Al culo Nooo ma dai È giù giù in fondo al corridoio ma Allora vado dagli altri Da una miseria Vaffanculo Odio cane La vedo È proprio dietro al vetro Minchia Vedo se riesco ad andare a prendere pulse Passo davanti Attenso Vado eh Sono in due Ho preso pulse Ottimo occhio Ottimo occhio È la prima questa Sì Minchia minchia Intraga io arrivo dalle cucine Vado Eh dovresti Proviamo Sono in due lì dentro Fai attenzione Cosa? Mash Marte Eh ho detto che son dietro raga Noi C'è c'è una strana Vaffanculo Niente Mi ha preso Jäger Vieni vieni Grimm Dobbiamo lasciargli Dentro non c'è nessuno Eh si è morto anche Smoke Anche lui Un'altra bomba Un'altra bomba Ah vai 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 Ma vaffanculo Troppo filospinato Servivano le granate Eh si Cosa? Sì Ci ho sparato un'ora E in quel punto Non è passato un colpo Ah che inizio di merda Dove vogliamo difendere? Io la rimetterei qua Un punto migliore Un punto migliore Sì Va bene Anche Anche un Capcan Non sarebbe male Perché se mi rushano a me Si beccano la mina Se mi rushano sul punto Dai provo io Non ho fatto in tempo Fa lo stesso Prezziamo il tentativo No mentre Mentre stavo cliccando Tum Mi ha fatto Il mirali vuoi mettere come prima? Se volete la vado a fare io Vado io Vado io Sono più preso Guarda quanti droni Guarda quanti droni fammi il favore minchia no you don't sai che succede ascia blackboard venga la porta qua è tutto aperto è un aperto loro è su scale comunque non è così facile basta no no come ho fatto a salvarsi oh c'è glass e dove eri tu Grimm lui con le botte delle bana da sotto mi arriva da dove sta portando le scalette sotto ancora un attimo fa cazzo sto gemmando roba su roba no poi i bana è dietro di te invoia minchia ce l'hai fancula tolto ascia la prendo dc si aspetta se vuoi te la spotto eh scappata scappata in cucina e ancora ancora con la zona lì bene viene da voi montagne cosa non c'è più montagne non c'è più montagne occhio mi ho buttato a terra glass da fuori è fuori dalle scalette uuuh le cose ammazzate ai bana eh gemmata ancora roba mi bana sta dronando arriva sempre al solito punto bella è rimasto a glazza all'ingresso delle scalette metalliche 15 secondi niente lasciatelo stare lasciatelo venire mh bella grande minchia ho fatto un pre fire per dai minchia si possono fare questi metteranno sotto si madonna eh a sto giro si qua montagne è molto buono ci riprovo devo fare le foto leale eh si ormai te non serve leggi nemmeno prendi uno d'accompagnamento per montagne da stargli dietro a bordo ok fate così li attaccate dalle scalette principali proprio li scendete con montagne che tanto non vi possono fare dalle scatole noia eh ti pareva noi apriamo le le bottole da sopra e vi ci proviamo ci proviamo perché andrà ovviamente qualcosa a starto ah c'è ma sono veramente sotto se si si c'è una valkyrie anche valkyrie valkyrie aspettate fine di merda tra 3 2 avete lì dentro un sacco di droni chi guarda c'è qualcuno no guarda io sento sparare come un matt allora hai allora dritto per dritto nessuno nebu vado a controllarti il dritto del corridoio si dovrebbe essere pulito ma tanto tu devi scendere giù mi scendo si però dacci un secondo Grim dobbiamo entrare noi eh sopra ora ci sono impronti merda nebu sei sceso troppo in fretta ok 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 guarda un po' chi c'è sopra sopra pals eh se lo ci avrò già visto tutti quanti nebu devi tornare indietro ok e guarda la giù chi c'è pure passo eh ancora ok è in mezzo alla scatola passo piano piano lo vedo vieni vieni Grim bravissimo riesci a fermare fermo 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 ho preso un altro no un altro sopra sono in due sopra se riuscire c'è ancora uno sul punto se vado con loro possiamo pusharli quasi ah eccolo lì che possiamo avanzare se vuoi ok tienila tu io devo tenere il maniaco sopra esatto preso ricarico vabbè stai pezzando io io li push vai dove sono? corridoio corridoio preso sto su valchiria perchè mi vanno? il casco è diverso e ci vuoi capire cos'era un muta forma era si buono lì dove c'è morta valkyrie ora ci metto il mira io dalla stanza dietro difendiamo con il nostro solito schema da ritardati che se ci sfondano sento le botte si esatto sono messi troppo male possiamo giocare anche noi con due liberi eh anzi dovremmo in teoria chi è che vuole andare libero? parla di fieno si si veramente va bene non ti conveniva no vabbè tanto non hanno giacca non hanno non ce l'hanno non usano attivati pure dopo non ti preoccupare falli ben pushare prima chi fa le bodole? io io ne posso fare una o due allora qua volevi mettere il mira vero? qua praticamente qua esatto si così ti guardo tutto il fianco a sinistro però è fondamentale la bottola quella sopra dove è Giuse più di quella sua qua c'è c'è qui c'è vieni nebu si non vuoi nessuna altra parete rinforzata di qua ehm no attualmente no le bottele ci sono no se non lo so se non lo so non lo so mi presento devo fare il libro amico dentro accedere 3 7 va eppure via voi se non avete doppio chiuso doppia porta ma che decidi? buco tipo qua? non ancora vediamo dove attaccano poi decidiamo mi sento da si mi sento da est ah da dietro ovest si nebu nel caso dopo io ti tengo questo corridoio quindi tu guardati il la parte destra da me twitcher arrivo fategli perdere tempo ha fatto fuori il filo spinato Ash c'è montagna si falli venire grande c'è montagna però fallo stare là si è ritirato si è ritirato eccolo lì posizione minchia botola botola quale botola? quella dove ho messo io lo specchio tutte anche su B merda c'è anche montagna dalle botole adesso scendo andatemi un attimo aspetta aspetta Grimm non aprire quella porta ce n'è uno ce n'è uno adesso ho fatto glass montagna ferito ero girato verso di me ma porca puttana mettere ricarico ma stavo stesso porta occhio occhio è uscita Ibana da sotto dalla mia dalla mia botola Twitch sta avanzando su B Twitch è su B Twitch entro niente dietro 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 no porca di nuovo per le botole porca Eva sempre per le botole ok ho una contrattattica per dopo tutti liberi no 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 tutti liberi gli specchi quasi gli li metto al contrario in quella stanza e gli prendiamo a castle così la smettono di buttarsi la dentro quindi dite che la rimetteranno sotto? si 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 e ora è un problema perché diventiamo prevedibili riproviamo come prima vediamo ma cosa sono attraesti stronzi bisogna usare il tuo drone per trovare una bomba sotto si Jager certo dobbiamo come prima controllare da sopra Grimm c'è Bandit in giro quindi sa botola tipo prost Jager quale sono tornati tutti di sotto Bandit in giro entrambi tornati giù bene quindi sono giù se il giro il giro il giro il giro il giro minchia Grimmardo qualcun altro vuole il defuser che io sono un po' lentino eh io non posso che sto sopra voi te lo lasciate eh? si metterò lì il giro il giro il giro minchia cosa ho fatto ora per romperci il cazzo non c'è nessuno da quei buchi eh lo so è solo per me non è completamente vuoto fino a fino a in fondo a senza scendere li hanno fatti ma non c'è esattamente nessuno ci sarà qualche pezzo di merda dall'alto allora fino a quello che ha fatto fino alla al coso presidenziale tu c'è uno c'è uno c'è uno si è in mezzo alle scatole dobbiamo iniziare ad avanzare vai riesco a colpirlo però preso grande avanzo aspetta che ricarico anche sopra ragazzi completamente ah c'è uno in fondo completamente libero ah la vedo la vedo la vedo ok spostata c'è una trappola c'è uno sopra e c'è smoke subito a destra allora c'è mira a sinistra e nel corridoietto c'è uno mira è morta e qui c'è smoke a destra che picca appena picca lo prendo io cazzo un altro in fondo c'è indietro già scappando salendo ieri da me da me ma sale dietro 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 ti ho fatto il filo spinato vi faccio la trappola se ne barretti leggermente ti faccio anche il filo spinato c'è smoke sempre che picca qua sopra le condotti d'aria ci sono io andata a sinistra smocca ok va più avanti io ho capito che faccio vuoi che faccio fumore e lascio a terra ok bravi guardate sta kill ti ho fatto lo scudo scusa si 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 l'hai visto? ma cosa? che sacchi di merda abbastanza e la potrebbero mettere in testa ora ragazzi se la mettono in testa dobbiamo lasciargli con i bana dalla botta serve montagna in testa? qualcuno vuole prendere i bana potrebbe potrebbe se volete i bana la lascio volentieri no fai pure fai pure non so se prendo anch'io blackbird di nuovo no prendete un i bana che serve si c'è già ok espona con me espona con me vabbè poi lo cambi e non so se io ho preso sledge per le nade così ah il filo spinato esatto togliamo il filo spinato ci buttiamo e riusciamo a non sono sotto e infatti sopra 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 sono in punta come prima stanno facendo buchi senza rinforzare dove tu mettevi il metro è vero ah ok non dove tu mettevi il metro nell'altra stanza della bomba di quella dove scelgo una bomba che è sbottata cosa? ah non ha aperto proprio qua ok pulse bene sono tutti e cinque lì se lascia se lasciamo da in fondo eh non ha cambiato lo spawn vabbè tanto ti sto continuando a dronare aspetta Grimm occhio però il defuser non lo tengo io allora o si allora intanto hanno aperto una finestrella laterale dell'aereo per uscire e sponchillarvi a voi Ale vuoi andare vuoi andare sopra sulle bottele quindi si si e sopra c'è il maniaco che difende c'è il maniaco attenti che vado avanti c'è bandit subì per adesso occhio occhio ve l'ho detto che c'è qualche bastardo vediamo vediamo vedo data da fuori esce 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 ne è caduto giù il drone oh merda non lo vedo più ti continuo a dronare io vai a destra vai a destra vai a destra Grimm tirò allora è lì il maniaco c'è ecco il dispositivo ok sta scappando è uscito è uscito e dai alle cucette mi sta sparando al drone ok è lì dalle cucette dai dormitori a destra aspetta che arrivo anch'io preso passo avanti perfetto fai la botola prima che arrivi altri stronzi è passato bandito a sinistra è qua dietro eh vai apri tienimi tu ora e niente non ho fatto ah la riestrella la porta ecco danno si può fare fuori fino a spinata gli ho fatto la nitro cielo ora vado a dronare eh ti guardo un secondo allora giù c'è Jäger o Bandit in voi giù dalle scale no Bandit è da noi in testa allora è Jäger ah ok Bandit è lì quindi smocca dall'altra allora raga aspettate si gliela dovremmo lasciargli se riusciamo uno su una bomba uno sull'altra uno nel corridoio ho sparato piccata alla porta principale adesso e sulla destra qui sul ping se volete mi butto dalla bottola ditemi vai nessuna toucher no negativo vi continuo a dronare come non posso muovermi da qua raga vanno uccisi eh ragazzi bisogna uccidere Bandit e smoke ditemi quando buttarmi se provi a buttarti ad andare su vado 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 ma lì per fare meglio del fuoco mirato sempre ok ok dove andiamo qua testa però non devono assolutamente fare quello che hanno fatto quindi prendete o frost o frost o cap can esatto è filo spinato è filo spinato a bomba più del c4 purtroppo io non ce l'ho con sta stronzo vai ce l'ho no ce l'ho io ce l'ho filo spinato ok 5 basta cioè non mi devono lasciare come ho lasciato io su Bandit mh mh pericol pericolare 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 sai che è facile per il piatto per un acqua esatto quelle buona quella importantissima e questi muri vanno rinforzati quasi più che quelli su scala quale vuoi e voi questi muri qua ok non avete la rotation aperta mi ha fatto mi ha fatto il drone a twitch mi ha fatto il drone a twitch poi ce n'è una sul corridoio e quella fuori me l'hanno fatta loro me l'hanno già vista avrei solo bisogno di sapere se c'è glass però si si stava entrando un drone stava entrando grande è già entrato montagna e c'è da dentro da doppia hanno smoccato vi dico se entrano doppi li vedo ancora è montagna che qui non basta non basta vedo le ombre fuori dai finestrini di penso di glazze che se le c'è l'opera è entrata montagna di nuovo montagne sempre di fermi ma sono tipo tutti là eh con un c4 fuori da doppio lo fate però non mi sembra di rischiare ma ci sfondano no arriva un drone apportato questa tizia mi fa sempre aia fumo la sopra la cucina da cucina riverbana no 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 la cucina è entrato glazze entrato glazze sono qua che viene da voi eh mi sto guardando ora apro il vetro apro il vetro preso preso glazze ok montagna è anche andato i bando da quicini ci sono da sopra ok bando da i bando è sopra sto prendendo la bottola adesso quello non ci vuole quello non ci vuole ok è sulla bottola i bando è lì ferma che guarda su ti dico quando scende se e l'altro dov'è sta dronando ho sentito un drone a girare non so dov'è tanto c'è la mina di capo anche i bando sta dronando anche basse tutto da cucina vengono i droni scende scende è presa sì sì penso da cucina l'altro ma non so sì sì grandi grandi di tattica proprio questa è una partita a scacchio è stata veramente G e basta G e basta ragiongo io minchia dai posso mi ha platino porco dio no per quattro punti si per quattro punti sono platino a 2 ho 3200